Siamo chiamati a uno sforzo che da dopo la guerra non ci era mai stato proposto prima. Ero sicuro che a un certo punto anche arriverà da noi. Il virus alla fine è arrivato. 14 letti liberi, sono diventati 14 letti occupati. Abbiamo avuto l'idea che la malattia stesse per diffondersi in maniera esplosiva. Qualcuno l'ha paragonata ad una guerra. Noi abbiamo bisogno di essere fermi. Bisogna che diamo ai lettori un colpo d'occhio che aiuti a vedere subito qual è lo stato della situazione. Siamo arrivati a fare il trappianto al limite. Al limite. Proprio al limite. Siamo arrivati a fare il trappianto al limite. Siamo arrivati a fare il trappianto al limite.